Il circuito di Los Ailes, sede del Gran Premio di Doha, sottopone i freni ad uno stress medio. La frenata più severa precede curva 1. La velocità iniziale è di 346 km orari. Il pilota imprime sulla leva una porta pari a 5,1 kg, sviluppando una pressione di 10,9 bar, percorrendo 263 metri in 4,9 secondi. La velocità finale è di 98 km orari. La decelerazione è massima di 1,5 g.